Un rapinatore che ha rubato un'auto dopo aver fatto una rapina non si è fermato all'alt dei carabinieri, anzi dopo l'alt dei carabinieri ha tirato dritto e ha tirato sotto uno dei due carabinieri che è finito all'ospedale con diverse fratture. Il collega del carabiniere cosa ha fatto? Ha sparato, ha sparato, ha fatto una cosa, non ha fatto una roba, ha fatto quello per cui viene pagato. C'è un rapinatore, investe un tuo collega, sparo. Purtroppo il rapinatore è morto, purtroppo, purtroppo, purtroppo il rapinatore, devo dire purtroppo perché sennò poi dicono che siamo cattivi. Purtroppo il rapinatore è morto ed è stato indagato per eccesso colposo di difesa il carabiniere. Non è normale.